Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi sono qui su GT5 perché vi voglio far vedere un glitch molto semplice ma molto utile che vi permetterà di comprare qualsiasi cosa, qualsiasi outfit, vestiti del casino che sono usciti con un nuovo DLC, insomma con il casino e che non possono essere normalmente acquistati così facilmente con il denaro di gioco, insomma con i dollari bensì possono essere acquistati solo con le chips del casino all'interno del casino, quindi con questo glitch che vi renderà più facile la vita sarete in grado di comprare qualsiasi vestito, insomma di comprare tutto subito con i soldi che sono sicuramente di più delle chips soprattutto per il semplice motivo che le chips o le vinci oppure semplicemente devi ritirarne massimo 20 o 50 mila ogni 48 minuti e diciamo è un po' seccante e questo non vi aiuta quando volete comprare tutti i vestiti, magari a raffica anche se magari qualcuno non vi interessa beh dovete fare un po' di selezione per il semplice motivo che non avete chips in quantità enormi mentre con questo glitch che vi dirò oggi sicuramente non avrete nessun tipo di problema ma c'è anche un'altra cosa e oltre a comprare tutto con i soldi di gioco beh sarete in grado anche di uscire dal radar o meglio di non essere segnati sul radar e questo che significa? Significa che i nemici, che le persone in sessione non vi vedranno sulla mappa e quindi non vi sgameranno io vi consiglio però di non abusare di questo glitch per questo motivo perché le persone vi segnalano molto facilmente e Rockstar prende provvedimenti quindi ragazzi direi di iniziare ma prima vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti commentate qui sotto facendomi sapere se avete fatto questo glitch e insomma se avete intenzione di comprare tutto così velocemente e in più alla fine del video vi dico una cosa che magari vi può aiutare a sbloccare qualcos'altro in più mi fate sapere se funziona o meno oltretutto lasciate un bellissimo like a questo video per supportarmi mi raccomando fatemi sapere che ci siete quindi supportatemi e ah vi ricordo di attivare anche la campanellina così per le notifiche così da ricevere subito i video e non trovarli magari in home così a spazio perché youtube maledetto funziona così cioè che dobbiamo fare per fare questo glitch quindi dovete stare al casino e non avete bisogno di nessun requisito beh dovete semplicemente chiamare Gerald, Lester, qualsiasi personaggio che vi piace di più a voi e richiedere un'attività io non potevo richiedere l'attività perché casualmente mi aveva già invitato e avevo già un invito disponibile che potevo comunque usare quello lì quindi se avete già un invito a una missione da parte di un personaggio, di un PG e non di un giocatore però attenzione potete usare quella lì per fare questo glitch beh in che cosa consiste? è molto molto semplice e però vi dico potreste non riuscirci a primo colpo quindi dovete un attimino pazientare e provarci, riprovarci e riprovarci beh quello che dovete fare è tenere aperta la pagina della missione in modo che quando si preme X si va sulla pagina della missione insomma si è pronti per giocare tenendo il telefono aperto vi avvicinate all'ascensore del casino e una volta che siete vicini all'ascensore del casino dovete tenere premuto pausa una volta che tenete premuto pausa non succederà assolutamente niente si aprirà il menu di pausa quando lo rilascerete quando rilasciate il bottone della pausa dovete spammare X in quel momento continuate a spammare X sempre e noterete che c'è il menu di pausa ancora attivo dopo un secondo 2 al massimo che il menu di pausa è aperto vi premete il menu di pausa e continuate a spammare la X ed è molto molto easy e molto semplice siccome capisco bene che potrebbe essere un problema capirlo subito anche perché io stesso non lo capivo subito come fare vi lascio anche una trascrizione del glitch in quanto è anche molto breve qui sotto in descrizione così potete leggerla e rileggerla facilmente quante volte volete senza dover uscire pazzi se non riesce il glitch riprovateci come è capitato a me ci ho riprovato almeno 4-5 volte anche di più se non mi sbaglio e poi alla fine però è riuscito e sono riuscito a fare tutto quello che volevo come capite se il glitch sta funzionando o meno? se vi teletrasporta nel menu dell'attività senza fare nessuna animazione che entra all'interno dell'ascensore il glitch non sta funzionando quando invece vedete che il vostro personaggio sta entrando nell'ascensore e dopo poco entrate nella sessione dell'attività beh il glitch sta funzionando nel momento in cui sta funzionando e quindi avete visto quell'animazione piccolissima e siete nel menu dell'attività dopo un paio di secondi 5, 6, 10 secondi uscite dalla sessione e beh siete pronti il glitch ha funzionato e vi ritroverete sotto la mappa con il PG che cadrà e responerà di fianco al casino se noterete in basso a sinistra la minimappa è buggata perché il vostro personaggio risulta ancora che è presente nel casino ma voi siete fuori ed è per questo che appunto i giocatori non vi vedranno sulla minimappa ed infatti anche voi stessi non vedrete la mappa di gioco e tutte le varie strade e viuzze da percorrere beh comunque una volta arrivati al negozio di vestiti lì si può comprare qualsiasi cosa del casino con i soldi di gioco ovvero con i dollari tutti i vestiti che sono presenti all'interno di questo negozio di vestiti sono solo ed esclusivamente quelli del casino potete comprare quindi tutto quello che volete subito e senza dover avere tutti quei soldi convertiti in chips per quanto riguarda le decorazioni a quanto pare al momento non c'è modo di farlo ma mi sono ricordato alla fine di questo glitch che potevo effettivamente andare nel negozio di maschere per poter provare a comprare le maschere di gioco purtroppo non l'ho fatto e anzi non so nemmeno se funziona quindi chiedo a voi fatemi sapere qui sotto nei commenti se facendo questo glitch e recandovi al negozio di maschere che è presente sulla spiaggia di Los Santos lì potete comprare le maschere insomma del casino che sono fighissime e che costicchiano un occhio della testa anzi forse due e il glitch è questo è semplicemente due tre passaggi molto molto easy e veloci che però dovete avere la giusta tempistica altrimenti potrebbe non funzionare non vi arrabbiate riprovateci e riprovateci sempre io mi sono comprato tutti e dico tutti i vestiti del casino ed effettivamente una volta che sono entrato nel casino avevo tutti quei vestiti sbloccati già acquistati per uscire da questo glitch non vi basterà suicidarvi perché continuerete ad essere fuori dalla mappa off radar e quindi le persone ancora non vi vedranno e io vi ricordo di non abusare di questo glitch perché potrebbero seriamente prendere provvedimenti rockstar nel senso di bloccarvi l'account per un po' di tempo è successo per esempio a chi faceva il glitch dell'immortalità ed essere off radar non è nemmeno così lontano da quel glitch lì si bara di meno in un certo senso perché c'è comunque la possibilità che le persone vi ammazzino ma da parte vostra c'è un vantaggio enorme e state barando enormemente perché i nemici non possono vedervi e questo è un vantaggio enorme e diciamo barare con gli altri giocatori non è mai una cosa buona e bella quindi attenzione non fatelo perché se lo fate verrete bannati ed è giusto così io non ho fatto questo glitch per questo motivo perché non ho intenzione di rompere le scatole alle persone ho intenzione di comprarmi semplicemente tutto quello che volevo facilmente e velocemente quindi confido nella vostra serietà e nella vostra maturità mi raccomando spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bellissimo like iscrivetevi se non siete ancora iscritti commentate qui sotto facendomi sapere che cosa avete acquistato grazie a questo glitch mi raccomando condividete questo video ovunque e noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao